Tra il sindaco Lavini e Barbara Santamartini al MET e oggi avviene fuori questa operazione. Qui mi sorge spontanea una domanda che è il sindaco De Terni, se Lavini o la commissaria Barbara Santamartini. Pare che contestavi anche le deleghe a Cercotti, no? La deleghe a Cercotti oggi, adesso ci arrivo, Cercotti lavora in prefettura, lavora in prefettura con gli SPRAR, sappiamo benissimo perché ho fatto altra conferenza, o meglio Cercotti lavora in prefettura gestendo gli immigrati, qui va a gestire gli SPRAR, ci sono sempre gli immigrati e le stesse associazioni che sono coinvolte nel lavoro che lui svolge. Io credo che ci sia anche un conflitto di interessi, anche perché lì la situazione è molto delicata, ma soprattutto andava fatto un coinvolgimento, confrontarsi anche per capire su quali basi sono state scelte queste persone, quali sono state le caratteristiche, le competenze per le quali sono state nominate. Perché a questo punto vanno rimessi in discussione tutti gli assessorati, tutti, perché basta con giochi di poltrone e di partito, ma va fatto un lavoro per la città, per il bene dei cittadini, perché così non possiamo andare avanti. Armi che credono di poter raggiungere posti di potere facilmente senza sapere nulla, quindi diventano anche molto arroganti, questo non va bene. Non bisogna essere umili, io non mi ho mai chiesto poltrone, non mi ho mai chiesto niente, ho il mio lavoraccio con un enorme coturia, vengo qui, faccio un impegno civico, ma insomma da scalata al successo non... Io credo... Io... 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 Io...